Tecno-Mentoring è un progetto per lo sviluppo di una piattaforma online per l'erogazione di servizi a distanza, di orientamento, formazione e matching tra aziende e profili professionali. L'idea nasce dalla necessità di consolidare e potenziare le ormai ventennali attività che Foglia si realizza con i giovani della provincia di Roma e di Rieti, attraverso diversi centri di aggregazione giovanile e di orientamento al lavoro. Le nostre professionalità, di cui hanno già usufruito diverse centinaia di ragazze e di ragazzi, saranno a disposizione di giovani impossibilitati a raggiungere i nostri centri, senza più vincoli di luogo e di tempo. A realizzarlo insieme a noi ci saranno Mettin Pro, un'associazione culturale esperta in storytelling digitale, e Tutto Sbagliato, una giovane società esperta in tecnologie della comunicazione. Tecno-Mentoring non è il solito sito web con informazioni statiche. Dietro un clic ci sono Francesca, Sara, Alexia, Dario, Claudio e Luigi, che prontamente saranno a disposizione per accogliervi, accompagnarvi e orientarvi nel mondo della formazione e del lavoro. FOLIAS, il meglio di ognuno, anche online. La idea non è male.